La firma di un accordo di associazione dell'Ucraina con l'Unione Europea potrebbe essere l'elemento decisivo per far uscire di prigione l'ex premier Giulia Timoshenko. Lo confermano a Kiev i familiari della leader politica che sta scontando sette anni di carcere per malversazione, ma che da tempo attende di poter essere trasferita in Germania per cure mediche. Per ora non sappiamo quando potrà di nuovo essere libera, solo speriamo che possa avvenire prima di ottobre. Ci rendiamo anche conto che l'Unione Europea sta esercitando molta pressione perché queste condizioni si possano realizzare. I familiari della Timoshenko continuano a denunciare quelli che definiscono comportamenti vessatori subiti in carcere. Col consenso dell'opposizione il governo sta lavorando a normalizzare rapporti con Bruxelles. In questo contesto proprio il destino della Timoshenko costituisce uno degli elementi in discussione.